Mirko e Valerio Lucia Due gemelli siciliani che ora hanno 16 anni diventati famosi suonando questo pezzo durante la tauna Due fiori inesti di talento che hanno tirato l'attenzione del voglio del mondo della musica dello spettacolo sono arrivati anche a suonare in tutta la vita in diretta streaming con con il colpletto dei fenomeni del mondo della musica del mondo della musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.